Gorizia TV si inchina per il grande padre Enzo Poiana che l'avevamo appena intervistato ed è scomparso proprio il giorno 16 sentiamolo, cosa ci dice? Noi siamo Gorizia TV del nono scaglione del 1980 1980 quindi sono ormai 30 80 sono 20, 36 anni 36 anni ho fatto la dodicesima compagnia del battaglione alpinico e mezzo della Giulia della Giulia che è un mitico battaglione quello che sono morti in Russia la brigata alpina Giulia che ha un carico di storia e di valore davvero grandioso però mi diceva un finanziere che la prima penna degli alpini mi sa dire quando è nata? Guardi credo che probabilmente sono diciamo la prima penna fosse dei finanzieri perché loro avevano sorvegliavano i valichi di montagna bravo e quindi diciamo hanno adottato questo sistema che dopo questo tipo di cappello o di foggio di cappello che poi è stato adottato adottato anche lei sono dell'ordine dell'ex arcivescovo di Gorizia ah Bon Marco Bon Marco esatto io sono diventato frate grazie a lui ah e io ho filmato quando c'era il papa qua a Gorizia sì 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 nel 92 sì sì senta cosa dice di questo pass lei bisognerebbe essere un po' più larghi di maniche ah in certe occasioni eh o no anche io in Basilica di Sant'Antonio dove dirigo la baracca dico sempre bisogna usare la testa e ci sono situazioni in cui bisogna anche avere diciamo quello spirito di adattamento è chiaro che nel giorno in cui c'è la festa di Sant'Antonio a Padova cosa vuole che metta passa e non passa sì ha ragione chi vuole venire viene lei è un grande senta lei è lì alla Basilica di Sant'Antonio a Padova allora allora quando che caso mai io verrò a Padova a fare un servizio chiedo il pass chiedo il pass va bene lei si chiama lei si chiama sono padre Enzo Pujana benissimo di Corona di Mariano del Friuli quella dove era il mio papà era di Mariano Borghese Borghese sì senta faccio un bel saluto agli amici di Gorizia TV noi come TVU siamo 18 anni che ne abbiamo in onda 19 allora saluto a tutti i goriziani sì perché io mi sento goriziano anche se da tanti anni vivo altrove ecco che questa città possa essere bella fuori bella dentro come fuori però lei c'ha un bel ricordo di questa città sì sì io ho vissuto qui ho vissuto perché ho frequentato il seminario in via al Viano ah via al Viano esatto poi in via del seminario qui quindi questa era è la sua casa andavo all'istituto magistrale su Conslata perciò è la sua casa questa qua sì bene era da un po' che non venivo come la vede come la vede dopo un po'? beh io la vedo sempre bella sempre bella poi quando sono di Alpini e scambia la vita è vivace senta io le faccio un bel saluto e un buon lavoro bene bene saluto il grandissimo padre Enzo Poiana che è appena scomparso Gorizia TV si inchina per questo grande padre che lui ha ricordato che non ci vuole il pass per entrare in chiesa ricordatevelo grazie a tutti